bit solo 3 wireless vediamo il contenuto della confezione darci il benvenuto alla custodia da trasporto rinnovata rispetto a quella precedente nuova cerniera e non solo al suo interno c'è anche una nuova taschina vediamo le cuffie hanno una forma on ear batteria ricaricabile agli ioni di litio fino a 40 ore di autonomia per un uso intensivo per cui possiamo usarne anche per più giorni connessioni bluetooth classe 1 basta accenderle col pulsante che c'è qua sotto avvicinarle al nostro iphone il setup è immediato altezza 19,8 cm peso 215 grammi per cui leggere controlli integrati per chiamate musica e siri con il controllo anche del volume integrato microfono bip forming per un audio nitido delle chiamate e isolamento acustico tramite questi padeglioni molto morbidi che garantiscono il massimo del comfort indicatore di ricarica led vicino al tasto di accensione presa cavo jack e ricarica ma cos'altro c'è dentro la nostra scatola guida rapida con tagliando garanzia il gancio marchiato beats per portarci a spasso la nostra custodia cavo di ricarica usb universale da usb a fino a usb micro b e cavo remote talk da 3,5 mm per connettere via jack il nostro iphone con regolazione del volume chiamate e risposta questo era il contenuto della confezione delle beats solo 3 wireless siccome ghi sci